Assessore Cosenza, da più di un mese via Morgan è chiusa per i fatti che conosciamo, della voragine che poi ha creato problemi anche in via Solimena. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Sì, ABC mi conferma che la strada che via Morgan viene riaperta ai cittadini prima di Pasqua, quindi prima di Pasqua, quindi entro questa settimana si potrà circolare, rimarrà solo un cantiere lato via Bonito, dove si stanno facendo ulteriori approfondimenti e quindi si mantiene questa promessa che era stata fatta. Poi i cittadini di via Morgan nel 63, il loro rientro non dipende dal comune, nel senso che per legge devono ottenere un certificato di eliminato pericolo, CEP, come si dice in gergo, dal tecnico di loro fiducia, cioè la legge proprio per salvaguardare il condominio prevede che sia un tecnico scelto da loro che deve rimettere questo certificato una volta che ha verificato che non ci sono lesioni, non ci sono pericoli. A prima vista, almeno nella parte in elevazione, non mi sembra che ce ne siano, però c'erano le zone invase dal fango che meritano attenzione e quindi mi auguro che questo certificato possa essere messo in tempi brevi. La riapertura della strada sicuramente è una buona notizia, cosa possiamo dire anche ai commercianti del posto? Sì, abbiamo dovuto fare un lavoro di grande complessità perché lì la Fogna, che in un primo momento non aveva ceduto, comunque tutto il sistema lì c'ha 135 anni, è nel 1889, quindi sotto insomma di sorprese pure ce n'erano, ma come avevamo detto per Pasqua manteniamo questa parola di riaprire completamente. Cosa risponde ai cittadini, non solo del Vomero, ma di Napoli, che chiedono un monitoraggio dei sottoservizi? Il Sindaco, in sue recenti dichiarazioni, ha detto di voler chiedere aiuto anche al Governo e Regione. Sì, abbiamo fatto una riunione tecnica anche questa mattina. Napoli ha la gran parte del sistema di collettori di Fogna e di Napoli, è avvenuto dopo il grande colera del 1884. Quindi una buona parte di Napoli ha collettori di 135 anni, quindi diciamo ci sono anche fatti molto bene, ma molto datati. Quindi di piccole sorprese ce ne possono essere, ma ABC farà investimenti continui, li sta già facendo con una mappatura anche tridimensionale dei sottoservizi. Abbiamo chiesto aiuto anche alla Regione, all'ente idrico campano, che certamente è disponibile, se ci vuole, un piano di breve termine, uno di medio termine, uno di lungo termine.